Hanno un valore di 6.000 euro, una durata di sei mesi ciascuna e sono state assegnate alle ricercatrici Francesca Mavilla, storica dell'arte e archivista, e Luana Pascarella, laureata in archeologia e storia dell'arte. La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha attivato così le due borse di studio in memoria di Giuliano Masciarri, segretario generale della Fondazione, dal 2016 componente del Consiglio di Amministrazione, venuto a mancare nel settembre del 2019 dopo una breve malattia. L'iniziativa è stata condivisa e portata avanti con i familiari, la moglie Francesca e il figlio Francesco, per ricordare l'uomo e il professionista che per anni ha contribuito con il suo operato a costruire la storia della Fondazione. A pochi mesi dalla sua scomparsa era stato nominato anche presidente della Fondazione Cari Perugia Arte. Per l'assegnazione delle borse di studio, la Fondazione ha coinvolto l'Università degli Studi di Perugia, grazie all'adesione del Rettore e al contributo dei duecenti Gianluca Grassigli, professore ordinario di archeologia, e Laura Tezza, professore associato di storia dell'arte moderna. L'iniziativa vuole essere anche di valorizzazione di un patrimonio culturale, che come diceva effettivamente il patrimonio e la cultura, noi, sono le nostre identità, ci caratterizzano, quindi dobbiamo assolutamente non solo recuperarli per quello che sono come valore storico, ma anche come valore attuale, quindi economico. L'iniziativa si inserisce all'interno delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte del Perugino nel 2023. La prima borsa è destinata ad un'attività di documentazione e ricerca funzionale alla raccolta di materiale bibliografico e documentario inerente alla vita e all'attività artistica del grande maestro, questo per porre le basi concrete per la costituzione di un centro di ricerca dedicato all'artista a Perugia. La seconda, invece, persegue un obiettivo percepito oramai come sempre più urgente e necessario, ovvero la valorizzazione del patrimonio culturale stesso e della conoscenza che genera in funzione della promozione di un turismo culturale internazionale di qualità. Questa seconda attività condurrà alla costruzione di itinerari turistico-culturali che, avendo come filo conduttore la figura e l'opera del Perugino, si innessino tuttavia nel variegato insieme delle risorse artistiche, storiche, archeologiche, paesaggistiche e anche delle qualificate eccellenze enogastronomiche ed artigianali del nostro territorio. Siamo molto riconoscenti e commossi. Giuliano amava moltissimo il suo lavoro e quando c'era la possibilità di assegnare queste borse di studio era veramente soddisfatto e lo riportava anche a noi. C'è stata una foto che ha girato parecchio per ricordarlo e in questa foto lui si dimostra molto soddisfatto in un momento lavorativo e mi piace molto ricordarlo in questo momento perché lo vedo e lo vediamo in questo momento proprio soddisfatto di questa iniziativa. Grazie a tutti. Grazie a tutti.